L'ultimo video che avevo pubblicato era un video legato ai luoghi del Monte Amiata che è correlato alle mie ricerche e che toccava punti interessanti del versante grossetano del Monte Amiata, interessanti sotto l'aspetto del mistero, dell'insolito e dei simboli soprattutto. Poi però è successo che probabilmente il video era un po' pesante per cui alcune immagini della prima parte del video erano invisibili, erano strappate, erano un insieme di pixel per cui l'ho dovuto ridurre, tagliare e riproporre in rete e allora a questo punto partiamo da dove si è interrotto il video e ho deciso invece di fare due parti legate proprio ai luoghi misteriosi del Monte Amiata che comprendono sia il versante grossetano che il versante senese appunto ho deciso di fare più parti, vediamo se riesco a farne tre complessive e può darsi che riesca anche a ridurre a due. Per cui ci eravamo fermati ad un luogo molto particolare del Monte Amiata. Si trova in un borgo bellissimo, uno dei più bei borghi della nostra penisola ovvero Santa Fiora. In particolare volevo parlare dell'oratorio di Santa Maria delle Neve e ne volevo parlare nei dettagli raccontandovi i simboli, ciò che troviamo al suo interno e le ritualità che lo contraddistinguevano e il perché ciò avveniva proprio lì. Mi avvarrò come nel precedente video prevalentemente di immagini perché le immagini sono evocative. Ieri ho assistito ad una eccelsa conferenza su Giordano Bruno e l'eroico furore però prevalentemente sul pensiero magico di Bruno e c'è stata una riflessione da parte dei bravissimi relatori legata proprio all'uso delle immagini che Bruno faceva. Ecco, io spero nel prossimo futuro di realizzare un video per immagini grafiche che forse sono le più evocative e in aiuto alla memoria rispetto alle foto, a ciò che troviamo in rete ma anche ciò che è stato realizzato nei percorsi che ognuno di noi fa, gli scatti fotografici dei luoghi che più ci colpiscono. Io penso che comunque le immagini grafiche, proprio i disegni di base simbolici, siano fortemente evocativi e in effetti quando nel passato svolto seminari per un riequilibrio interiore tramite il simbolo, per aiutare alla memoria anche coloro che erano di età matura e che cominciavano ad avere un ricordo zoppicante, lavoravo prevalentemente per immagini estemporanei, cioè facevo realizzare ad ognuno di loro proprio dei simboli grafici. Quindi mi riprometto nel prossimo futuro di proporre una cosa del genere. Nel prossimo scritto, quello che uscirà, gran parte dei concetti, quelli prevalenti, sono anche rafforzati con l'ausilio di tavole grafiche che ho realizzato io stessa. Certo è che proporre la realizzazione alle persone che seguono i video è molto più evocativo e molto più potente a livello energetico. Chissà che non possa fare anche un video proprio perché ognuno di noi possa tramite i simboli grafici lavorare su se stesso. Ma torniamo prevalentemente all'argomento di questo video. Poi magari a conclusione di questo percorso nel Monte Amiata tra versante Grossetano e versante Senese magari proporrò un piccolo esercizio grafico che ognuno di noi poi può fare personalmente nel suo ambito privato legato magari ad uno degli elementi al fuoco, forse il fuoco del vulcano. Il Monte Amiata era un vulcano o all'acqua, l'acqua che è presente in tutte le sue forme proprio sul Monte Amiata. Veniamo quindi alla questione di questo luogo particolarissimo e mi aiuterò con le immagini perché di immagini bellissime ve ne sono e ne ho scattate tantissime prevalentemente quelle che troverete in questo video sono di mia proprietà. Di questo luogo alle pendici del Monte Amiata che è il borgo di Santa Fiora in particolare l'oratorio della Madonna delle Nevi. Ovviamente le energie del luogo sono sono incredibili. Santa Fiora è ricchissima di leggende e più volte ho parlato della storia delle fate, la fata petorsola o la fata che è nascosta, rinchiusa, trasformata in questa grande pietra nel quartiere, nel borgo di Monte Catino e che si è rinchiusa all'interno della pietra per sfuggire alle ingiustizie del mondo e ancora dorme lì all'interno della pietra perché a quanto pare il mondo ancora non si è liberato dalle ingiustizie e vi invito a visitarla perché è molto particolare. Tra l'altro vi è della vegetazione al di sopra di questa pietra che sembrano veramente dei capelli e fotografandola in certi momenti di luce veramente sembra una donna che è ripiegata su se stessa. Si trova alla fine del borgo di Monte Catino quindi a valle del diciamo del centro storico di Santa Fiora è molto vicino al luogo molto vicina al luogo di cui vi voglio parlare ovvero l'oratorio della Madonna delle Nevi. L'oratorio dell'oratorio della Madonna delle Nevi ne ho scritto nella guida alla maremma insolita e misteriosa in un itinerario che è quello della papessa che va dal dalla maremma della bellissima campagna del Grossetano e tocca gli abitati di Cinigiano Monticello Amiata e sale su fino a Santa Fiora Santa Fiora è ricordata fin dall'890 fra le proprietà dell'abbazia di San Salvatore e alla fine dell'undicesimo secolo diventa un importante castello che fu degli aldobrandeschi e di fatto di uno dei due rami della famiglia. Rimane una contea autonoma fino a più o meno a che passò sotto il controllo della famiglia milanese dell'Isforza e poi in seguito al matrimonio appunto fra Cecilia Aldobrandeschi e Bosso e poi fino all'abolizione dei feudi del Gran Ducato di Toscana nel 1789. Ovviamente la storia è importante ed è documentata dalla ricchezza del suo centro storico che è composto da tre fasi successive di espansione. Di fatto c'è il castello con il palazzo dei conti, la pieve di Santa Flora e l'uscilla, il borgo con la chiesa di Sant'Agostino e Monte Catino che sorge intorno alla peschiera e io parlerò proprio di questo particolare luogo che si trova in Monte Catino. Si può fare un percorso che io ho consigliato nella guida alla maremma insolita e misteriosa dirigendosi nella direzione della peschiera iniziando proprio a piedi a valle del paese ovvero dal terziere di Monte Catino. Ovviamente gli altri due terzieri sono denominati Borgo e Castello e questo percorso io l'ho dedicato prevalentemente all'Arcangelo Michele e la la sua corrispondenza con la Madonna, la Vergine Maria perché ho ritrovato che queste corrispondenze cioè la presenza di entrambe le figure si ritrova in Monticello Amiata, in Cinigiano, in alcuni borghi che da capoluogo di Grosseto diciamo precedono Santa Fiora quindi ho tracciato una strada che era una strada che univa in pratica queste due figure. In effetti forse c'è una correlazione tra maschile e femminile luna e sole in e yang che è stato anche non intenzionalmente rimarcato e parliamo a questo punto dell'oratorio della Madonna delle Nevi. L'oratorio appunto della Madonna delle Nevi si trova a valle del centro storico di Santa Fiora nel quartiere Montecatino. È un luogo fortemente vibratorio al di sotto del pavimento della chiesa scorre una delle sorgenti del fiume Fiora. L'energia di questo luogo è fortissima e le acque scorrono nella pietra naturale e si racconta che l'oratorio venne costruito dagli agostiniani nel punto dove si trovava un edicola votiva che recava l'immagine della vergine però l'oratorio doveva assolutamente essere sacro prima ancora perché la popolazione locale ha mantenuto un rito antichissimo che si è ripresentato nel tempo e che solo fino a pochi anni fa è venuto a perdersi purtroppo che ricordava l'incoronare Caput sorgente che era un antichissimo rito romano si buttava nell'acqua a monte quindi all'origine della sorgente dei fiori si buttavano delle coroncine di fiori. Questi riti li ritroviamo in Abruzzo, in Lucania, nel Casentinese però li ritroviamo anche in Lettonia e addirittura nel Kalash dell'Afghanistan quindi sono rituali antichissime nelle primitive forme di religione l'ambiente naturale si prestava moltissimo a diciamo la dimora di quelle che erano le presenze divine che agivano e intervenivano in base ovviamente al loro luogo di appartenenza avevano un'azione verso i mortali in una determinata maniera e quindi i boschi i monti ma anche le grotte le sorgenti i laghi e le fonte si trovano spesso si trovavano spesso in insediamenti che erano antichissimi, arcaici ed erano oggetto di venerazioni verso le divinità che erano legate ovviamente all'acqua, divinità fluviali e oltre alle divinità anche altri esseri, anche altre presenze sovrannaturali e anche altre presenze che hanno animato il nostro folklore come le fate, gli elfi quindi quelle quelle presenze che fanno parte della delle tradizioni della narrazione popolare delle leggende e scrive lo storico medievista a proposito dell'oratorio della madonna delle nevi che al di sotto dell'attuale chiesa non ho detto il nome michele lucciotti dottore in medievistica al di sotto dell'attuale chiesa è stato rinvenuto un ampio tratto lastricato della strada medievale l'unico sulla miata che costeggiava la peschiera sul lato della quale si ergevano due piccoli costruzioni che ospitavano probabilmente delle attività artigianali legate all'acqua, probabilmente erano ambienti per vasai, tintori, la cui presenza intorno alla pescina perché così viene chiamato l'oratorio della madonna delle nevi è già testimoniata nel quattordicesimo secolo. La strada era inizialmente attraversata da un piccolo torrente per superare il quale venne costruito probabilmente tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo un piccolo ponte in pietra e si può osservare intravedere forse sotto il piano di cristallo del pavimento ovviamente che costituisce il pavimento appunto il basamento si può intravedere. Le tracce archeologiche di questa fase sono estremamente evidenti e interessanti poiché per evitare che il torrente arrecasse danni alla struttura sotto la chiesa venne costruito un complicato sistema idraulico di regimazione delle acque sorgive con tanto di canali coperti e chiuse nelle quali l'acqua limpida scorre ancora abbondante. In alcune pietre bagnate dal torrente si possono intravedere attraverso la pavimentazione di vetro delle croci incise che pochi visitatori notano a parte il fatto che per vederle bene bisogna mettere una piccola monetina un euro credo in un sistema di luci che si accende per poco tempo e molti entrano distrattamente non ci fanno caso e quindi non accendono le luci che illuminano la parte sottostante alle lastre di vetro per cui non notano difficile possano notare queste croci incise. Io ve le faccio vedere in immagine ve le descrivo. Vi è una semipatente con bracci che si allargano leggermente in spessore verso l'esterno e una detta ripotenziata ovvero con segmenti trasversali rispetto ai bracci principali. Ci sono delle leggende dell'area del nord Italia di frequentazione sceltica che narrano che durante i furiosi temporali o nelle esondazioni dei torrenti i fedeli tracciavano segni di croce sul sacrato o sulle pietre vicine al torrente e gettavano manciate di sale alle spalle invocando all'aiuto della divinità.